Amici di Parcferme, eccoci qua per la seconda gara del Turismo 1.4 del Rio Grande do Sul, qui a Guaporè. Io sono Edoardo Cammelli e insieme a me c'è Andrea Grazio. Ciao Andrea. Ciao Edoardo, sei pronto per vedere un'altra gara che sarà sicuramente emozionante come gara 1? Assolutamente, gara 1 che abbiamo avuto qualche difficoltà a capire all'inizio per via dei vari problemi che ci sono stati. Quindi partenza per dopo vedere la bandiera rossa esposta, pensavamo che ci fosse stato un grosso incidente magari sulla griglia di partenza, ma non era così, semplicemente probabilmente c'è stato un errore o difficoltà da parte dei commissari di gara e quindi è stato deciso di dare bandiera rossa e quindi fare un altro giro di formazione. Poi via via abbiamo visto tante battaglie, vittoria di Cardoso che è riuscito a scappare subito via davanti a un buon Fuentes che è riuscito a prendersi tre posizioni alla partenza e poi è riuscito a mantenere la seconda posizione guidando nella terra di nessuno cercando di andare a prendere Cardoso e Castro in terza posizione e poi dietro tante tante battaglie per la quarta con diversi contatti, anche grossi rischi abbiamo visto soprattutto alla Esch quando la vettura di Di Giacomo si è ammutolita ed è stato costretto il pilota a parcheggiare lì per poi vedere subito una vettura dovrebbe essere la vettura di Takagi che stava combattendo con Bassani, Bassani che ha avuto un leggero perdita di controllo della vettura andando a battere contro la vettura di Takagi che l'ha spinta fuori e Takagi con grosso sangue freddo è riuscito ad evitare la vettura di Di Giacomo per fortuna nessun problema, per fortuna tutti i piloti non si sono fatti male attenzione che vedo già una vettura che sta rientrando i box, credo che sia la 88 di Sartori Nascimento la vettura che abbiamo già visto in gara 1 finire contro le barriere quando è entrata al contatto con un'altra vettura aveva sbagliato completamente l'entrata di curva 1 arrivando troppo lunga durante una battaglia infatti abbiamo visto che sulla parte anteriore sinistra è completamente piena di scotch Bassani che partirà dalla prima posizione intanto in quadrato davanti a Toko Junior vincitore della categoria C in gara 1 subito dietro ci sarà la 58 di Mariante, poi la 27 di Castro per dopo chiudere con Fuentes e Cardoso eccola qua intanto la vettura proprio che dicevamo prima di Sartori adesso dovrebbe esserci Nascimento alla guida Nascimento che avrà un compito abbastanza difficile di dover rimontare dopo un po' di difficoltà che ha avuto in gara 1 Sartori intanto qui i vari tifosi che si sono accampati perfettamente con tutti i camper tutti i camper più stile americano se vogliamo che brasiliano si sono accampati nel circuito di Guaporè ma intanto attenzione perché Bassani è già sul rettilineo in partenza pronto per schierarsi la scelitura si ferma? eh fa una specie di prova di partenza prova di partenza per Bassani e tutti gli altri piloti che forse vogliono scaldare bene tutte le parti dell'auto e soprattutto le gomme con il circuito di Guaporè che dicevamo che per la prima volta nei canali di Parcferme circuito di 3 km 05 molto se vogliamo quasi tecnico se sei molte volte in curva non sei praticamente mai nel rettilineo un circuito in cui è anche abbastanza facile arrivare contro i muretti anche e soprattutto se sei in battaglia comunque non è difficile sorpassare perché lo abbiamo visto in gara 1 però puoi avere qualche difficoltà soprattutto se il pilota davanti a te è bravo nella difesa piloti che stanno ancora avendo qualche difficoltà a schierarsi vedremo probabilmente la bandiera verde oppure vedremo se i semafori sono stati aggiustati con adesso credo che tutti sono pronti in questo momento quindi aspettiamo solo la bandiera verde con forse eccolo qua che viene dato la partenza in questo momento la green flag viene sventolata con Bassani che mantiene la prima posizione dietro però viene inseguito da Toko Junior che vuole prendersi la leadership anche Fuentes è partito molto bene addirittura si prende la prima posizione Fuentes ha fatto una partenza incredibile e si presenta già primo in curva 1 attenzione ai possibili tamponamenti ma non sono così Fuentes ha fatto una partenza incredibile prima posizione partiva dalla quinta attenzione a come andiamo ad affrontare curva 1 con i vari contatti nessuno però crea troppe difficoltà ai vari piloti Cardoso è partito male credo che sia tra la decima posizione dietro via via tutti gli altri ancora bandiera rossa ancora bandiera rossa esposta cerchiamo di capire per quale motivo è stata esposta la bandiera rossa seconda volta che viene esposta al primo giro peccato anche perché stavamo vedendo tante belle battaglie soprattutto la partenza di Fuentes è stato qualcosa di incredibile perché partiva dalla quinta posizione e soprattutto si è ritrovato primo nei primi metri di gara neanche dici dopo un intero giro dopo aver visto le varie battaglie ma si è ritrovato primo dopo se vogliamo i primi quanto però quanto andrà i primi 100 primi 200 metri ah si è stato veramente fulminio aspettiamo ancora di capire se c'è la bandiera rossa per qualche tipo di incidente perché non ci viene inquadrato nulla oppure la bandiera rossa è stata un po' come ieri si quindi si si forse c'è qualche problema in commissione gara intanto ancora qui la vettura 88 che è bella piena di nastro telato assolutamente normale vedere però vedi che gli altri commissari non sventolano niente se fosse bandiera rossa sarebbe bandiera rossa dappertutto invece bandiera rossa soltanto in certi punti sono di nuovo tutti in griglia due minuti c'è il cartello dei due minuti sbaglio l'agm safety car sta facendo anche elettromarcia non vorrei sbagliarli sì l'ordine di partenza mi sembra ristabilito quello di partenza iniziale vediamo se ci sarà ancora un altro giro di formazione aspettiamo di capire soprattutto cosa stia succedendo perché è la seconda volta che capita durante questo weekend e non ci hanno ancora dato una spiegazione quindi se per caso dovesse arrivarci una spiegazione ne saremmo di sicuro contenti Bassani intanto riparte per il giro di formazione intanto qui gli spotter dei vari piloti presenti nelle varie curve che stavano parlando tra di loro Bassani che comunque anche fortunato se vogliamo perché aveva perso la leadership della gara quindi se vogliamo nella sfortuna è anche fortunato invece molto sfortunato Fuentes perché aveva fatto una partenza incredibile e stava già provando a scappare via io continuo comunque a domandarmi per quale motivo vengano fatte partire le gare poi sospese e poi ripartire immediatamente dopo perché poi fra l'altro non vediamo che cosa possa esserci in mezzo alla pista di impedimento quindi non riusciamo a capire se magari c'è qualche vettura che ha stallato qualche magari qualche barriera fuori posto però se fosse effettivamente così vedremo la gara ripartire dopo un po' di tempo per esempio se fossero le barriere fuori posto o qualcos'altro quindi è qualcosa di molto strano non possiamo neanche dire magari che c'è una competition caution come per esempio c'è nella Nascar quando ci sono problemi alle gomme ne era praticamente sempre piena la Nascar a inizio 2023 anzi a inizio 2022 con l'arrivo delle next gen quindi stiamo veramente facendo fatica a capire perché mettano questa bandiera rossa subito dopo la partenza anche perché durante quei primi metri di gara potrebbe anche succedere un incidente che può portare fuori magari qualche pilota non riesce più a ripartire e questo metterebbe fine alla sua gara e sarebbe devastante anche perché se dopo viene fuori che la partenza non, come si può dire sì, non era giusto partire questa prima volta si ritrova veramente fuori corsa senza colpe apparenti perché vittima di qualcosa successo quando la corsa non era neanche iniziata infatti quindi sarebbe anche magari da fare reclamo però adesso aspettiamo di capire aspettiamo di vedere come si partirà in questo momento con i semafori alla fine abbiamo visto che non riescono a partire durante questo weekend quindi forse qualche problema di sicuro ai semafori che vengono sostituiti dalla bandiera verde sventolata dal commissario in cima sul rettilineo del taguardo intanto ancora i piloti chierati quindi aspettiamo di vedere cosa succederà in questo momento con Bassani nella prima posizione Tocco Junior sulla sinistra e partono ancora i piloti per la seconda volta durante questa gara Bassani questa volta sembra riuscire a mantenere la prima posizione attenzione a dietro cosa potrebbe succedere Fuentes forse non è partito bene come è partito prima si provano già a mostrare la 58 si mostra all'esterno Mariante tenta di fare un attacco forse potrebbe andare a buon fine Cardoso è partito anche meglio sembra aver preso una posizione quindi si ritrova in sesta testa a testa tra i due piloti Bassani che però riesce a difendersi bene riesce a mantenere la leadership tocca sana se vogliamo la ripartenza per Bassani che questa volta non ha nessun tipo di problema e soprattutto può mettersi dietro tutti i piloti arriviamo in curva tunnel curva 4 del circuito di Guaporecon attenzione dietro Fuentes che ha comunque fatto forse una buona partenza non nei primi metri ma è riuscito a recuperare di sicuro nelle curve successive seconda posizione che potrebbe essere a portata di tiro per il pilota della Volkswagen Gol che tenta di infilarsi in curva 5 però non credo che ce l'abbia fatta infatti ancora davanti la 58 dietro ancora tante manovre Cardoso riesce a difenderci bene da Castro che stava provando ad attaccare il pilota della 711 e intanto qui ancora diverse manovre con Fuentes che adesso però dovrà stare attento a Tacco Junior Tacco Junior che non è partito bene due posizioni perse per il pilota leader della categoria C ma potrebbe rispondere attenzione dietro che c'è una vettura che finisce completamente lunga è una GM Onix ed è quella di Tecman che è nata completamente lunga all'ultima curva si presenta Fuentes vuole mostrare il conto alla 58 di Mailante e riesce anche a prendere la posizione risposta però all'interno incrocio di tagliettoria della numero 58 e dietro anche Tacco Junior che si deve difendere da proprio la vettura di Cardoso che prova un attacco dietro anche qualche bloccaggio si infila una GM Onix che tenta il sorpasso però comunque tutto pulito fino a questo momento e meno male perché abbiamo già visto troppe interruzioni sia in gara 1 che in gara 2 ho visto una delle Nissan Micra presenti in gara ferme sul lato della pista eccola là infatti una Nissan Micra attenzione Fuentes Fuentes pronto ad attaccare anche Cardoso pronto ad attaccare su Tacco Junior arrivano praticamente tutti appagliati con Fuentes che prende l'interno Cardoso prende l'interno entrambi fanno la manovra fotocopia e riescono a prendersi la posizione prima di andare a scavalcare sulla Esce con adesso i piloti che vanno ad affrontare la curva di Vittoria per rilanciarci sul rettilineo d'entraguardo e Fuentes adesso può andare a prendersi la prima posizione può pensare di attaccare Bassani perché secondo me il ritmo può avercelo e di sicuro ha anche tutte le qualità in corso per prenderlo attenzione intanto una vettura a cui viene esposta la bandiera nera col cerchio arancione vuol dire che ha un problema e quindi dovrà rientrare ai box un problema meccanico che mette a rischio la sicurezza del pilota e degli altri piloti in pista intanto ancora battaglia soprattutto per il centrogruppo Cardoso si mostra all'esterno sulla 58 riediamo che dopo diventa interno e riesce a prendersi la posizione e dietro anche la 999 di Bravo che prende quella che dovrebbe essere la settima posizione dietro anche le GM Corsa che provano a mostrarci però sai che non riesco a capire chi è che possa avere quel problema che richiede una sosta ai box non mi sembra di vedere macchine con pezzi che stanno per essere persi o cose del genere infatti hai ragione Andrea perché non vedo tante vetture con danni seri anzi soprattutto non ne vedo invece sto vedendo Cardoso che deve difendersi a 58 finisce completamente lunga la vettura di Castro che perde le posizioni e perde anche una parte del paraurti anteriore e va a che poter dire un contatto con quella che dovrebbe essere la vettura di Sirtoli che dovrebbe aver comunque mantenuto il controllo della vettura Toco Junior si mostra già forse anche piccolo bump sulla 58 di Mariante ma dovrà prendere la scia adesso per tentare un attacco in curva 1 ancora sventolata la bandiera nera col cerchio arancione però non sappiamo ancora io non ho capito il numero non riesco a vedere che numero sia uh attenzione Bassani Bassani ha subito l'attacco di Fuentes cambio di leadership quando siamo in corso del quarto giro cambio di leadership che neanche ce ne siamo accolti eravamo più concentrati a capire chi avesse i danni da riparare in questo momento potrebbe essere forse la vettura di Castro però intanto la cosa più importante in questo momento è che Fuentes ha preso la prima posizione e l'ha presa anche in pochissimo tempo perché abbiamo visto che Bassani aveva un distacco non dico grosso ma abbastanza di sicurezza ed è stato tutto rosicchiato dalla vettura ed è stato tutto rosicchiato da Fuentes guarda adesso sta anche cercando di andare via ha lasciato un pochino di spazio fra sé e Bassani la Nissan Micra lì parcheggiata ho visto che dovrebbe essere quella di Kipao con il pilota che era sopra le barriere a guardare la fine della gara che mi sembrava abbastanza desolato per tutto quello che è successo soprattutto per il suo ritiro intanto ancora andiamo a concludere il giro Fuentes sta scappando via Fuentes è riuscito a mettersi un bel distacco di vantaggio sugli altri piloti dietro si muovono a ventaglio si cercano ad aprire per cercare un posto al sole se vogliamo e per cercare soprattutto una posizione di vantaggio con la 0-3 che sembra averla guadagnata proprio in questo momento la vettura guidata adesso da Ribas è riuscita a prendersi la sesta posizione però ha una risposta da parte della dovrebbe essere non la vettura di Castro ma un'altra GM Onyx bianca la 27 la 27 anzi scusate proprio la vettura di Castro allora prima era la vettura di Messias che ha subito un danno alla parte anteriore e davanti abbiamo visto anche Bassani che stava assumendo un attacco aspettiamo di vedere la regia se ci può rinquadrare le azioni eccola qua infatti ringraziamo la regia qua ancora le manovre con Cardoso che forse entra in contatto no qua è la vettura di Messias che finisce lunga forse prende anche ok prende il rialzo dell'erba e quella parte va al contatto col paraurti che era già danneggiato e perde il pezzo con i pezzi ancora in pista se vogliamo non il massimo anche perché rientrano in una traiettoria che viene utilizzata dai piloti per il sorpasso attenzione ha dato ferma l'88 di nascimento che non ce la può fare a concludere una gara senza problemi perché abbiamo visto anche in gara 1 l'incidente che lo ha visto protagonista ho visto anche una vettura che rientra ai box ancora esposta alla bandiera nera con il cerchio di nascione Cardoso va l'attacco di Bassani per la seconda posizione si infila senza pensarci due volte il pilota della 711 buonissima la sua manovra e dietro ne potrebbe approfittare anche Mariante che prende l'esterno in questo momento ma cercherà di sicuro un incrocio di tagliatoria per tentare di avere più trazione in uscita invece Bassani comunque si mette lì si mette lì al centro pista con le spalle larghe per tentare una difesa strenua una difesa con le unghie e con i denti che però sembra sembra che in questo momento potrebbe anche cedere perché la vettura di Mariante è sempre più vicina invece Cardoso ne deve assolutamente approfittare per scappare via attenzione dietro che arrivano addirittura con quasi 3 wide con la 97 e la 98 quella di Beicola e Boz che stanno battagliando molto bene per le posizioni più retrostanti attenzione al pezzo presente sulla traiettoria di curva di curva 6 prima di andare giù alle esce quindi attenzione a evitare quel pezzo che potrebbe creare danni alle varie vetture adesso più di qualche vettura ferma ai bordi della pista speriamo che non crei nessun tipo di problema per i piloti sollevare un po' di polvere attenzione attenzione a Mariante che prende la terza posizione anzi no perché Bassani stacca profondo incrocio di tagliatoria sicuro che ci sarà per la 58 no ottima onora di Bassani che riesce a mantenersi l'interno pensavo che arrivasse leggermente lungo per la staccata che aveva compiuto però invece il pilota della numero 02 è riuscito comunque a mantenersi lì attenzione quasi contatto piccolo bump probabilmente con la vettura di Lorendo e Bola Junior piloti che condividono la vettura durante questo weekend andiamo ad affrontare la tunnel quando credo che manchi attenzione qua c'è qualcuno che ha rotto vettura che perde tanto fumo vediamo se riusciamo a capire quale pilota è credo che sia la numero 03 quindi Pedretto Eribas la vettura che viene parcheggiata subito in curva 4 la curva tunnel con anzi scusate la 33 quella la vettura di Bastos che sta guardando lì se vogliamo i lavori sta vedendo lì il parcheggio del suo rivale intanto qui attenzione che c'è l'attacco anzi no qua replay perché Fuentes va all'attacco di Bassani e Bassani è costretto a cedere attacco che è venuto qualche giro fa e intanto qui ancora le battaglie sono sempre più accese ma soprattutto dobbiamo incodare Bassani che si riprende si difende ancora per una volta in curva 1 e lo stesso cercherà di fare variante cercherà di andare all'attacco addirittura totalmente all'esterno che dopo si trasformerà interno andando alla Caetano Antinolfi con i due che sono testa a testa tenterà di sicuro un incrocio di tagliettoria la 0-2 eccola lì leggermente perdita di controllo forse un po' di sovrasterzo per la vettura di Mariante però non ci viene ancora inquadrata andranno di sicuro pari alla tunnel per dopo continuare la loro battaglia prima della Radiador ancora inquadratura qui con tutti i vari piloti che stanno combattendo aspettiamo di vedere come saranno i due eccoli la Bassani e Mariante con i due che sono ancora testa a testa Mariante è riuscito comunque a mantenersi davanti alla curva tunnel ma credo che dovrà cedere la posizione prima di arrivare alla esce infatti Bassani ne ha di più anche ha un danno alla parte posteriore Bassani però non credo che sia così grave da bloccare il pilota della 0-2 anzi riesce a prendersi la posizione proprio adesso sulla 58 e c'è una ruota che qualcuno ha perso una ruota in pista aspettiamo di vedere se per caso c'è stato il contatto con qualcuno addirittura credo non vorrei spiegare è la 97 la vettura guidata da Boz che è andata a contarsi deve aver perso la ruota e perdendo il controllo è andata a sbattere contro la Micra che era lì ferma arrivano anche in soccorso arrivano anche in soccorso per constatare che stia bene il pilota numero 97 purtroppo quando tanto è Boz il pilota lo sportello aperto loro non mi sembrano molto agitati quindi sicuramente starà bene però io sono curioso di vedere cosa ci è successo perché abbiamo visto una ruota che correva indisturbata per la pista adesso sullo sfondo c'è anche l'ambulanza che se ne sta andando però io non vorrei che abbia perso una ruota e poi successivamente abbia perso il controllo aspettiamo di capire perché comunque è successo un episodio se vogliamo molto pericoloso perché purtroppo può capitare quando quando le vetture vengono lasciate parcheggiate sulla sulla pista a fianco a meno che non siano in zone proprio sicure ma purtroppo se c'è una perdita del controllo può capitare questo aspettiamo di vedere soprattutto come stia il pilota visto che sono arrivati adesso prima prima l'automedica adesso anche l'ambulanza oltre al camioncino al pick up dei dei commissari di gara credo sia quello dei praticamente mi verrebbe a dire quello della nostra CEA aspettiamo di vedere magari se la gara aspettiamo di vedere se magari la gara non potrà finire sotto safety car perché comunque penso che non mancasse troppo alla fine soprattutto anche da capire come sta il pilota siamo ancora in regime di bandiera gialla però non si eh ma qua la safety car torna ai box quindi allora questa è bandiera rossa penso proprio che tu abbia ragione safety car che rientra in questo momento con tutti i piloti ho detto chiaramente bandiera amareglia che vuol dire bandiera gialla però questa è a tutti gli effetti una safety car perché la safety car passa lungo la pit lane soltanto quando c'è il rettilineo di partenza occupato in questo caso l'incidente è avvenuto da un'altra parte quindi il rettilineo di partenza sarebbe sgombro non capisco perché debbano passare di qui se non perché si vanno a mettere tutti quanti in fila i box ecco la bandiera rossa infatti bandiera rossa esposta anche giustamente per tutto quello che è successo e adesso aspettiamo di capire come ripartirà la gara con adesso i piloti che sono tutti rientrati in box soprattutto anche da vedere come sta a bozza in questo momento anche se hanno lasciato più di qualche volta le inquadrature comunque quindi speriamo che il pilota non abbia nessun tipo di grosso danno intanto qui i replay che ci vengono mostrati degli alites della corsa con tante battaglie che si erano viste ormai eravamo nelle ultime fasi di gara la battaglia per la prima posizione e le posizioni retrostanti con il contatto tra l'ondero e la vettura di Sirtuli anche la 99 la 98 scusate la vettura di Beicola e qua anche Puentes che ha fatto non una partenza eccellente come era stata nella prima partenza ma comunque dopo praticamente metà giro era già in seconda posizione soprattutto dopo è riuscito anche ad attaccare la prima posizione di Vassani che purtroppo è caduto un po' non è riuscito a mantenere comunque il suo status di forma hai visto che nella inquadratura precedente si vedeva già che durante il corso del primo giro la macchina la la corsa numero 33 o era una micra adesso mi sfugge mi sto anche un attimo la micra la micra si si la micra di Pledge e Bastos che stava proprio già rallentando vistosamente adesso la vediamo lì ferma e poi è stata centrata in pieno dalla macchina di Boss dobbiamo ancora capire in che modo credo che forse non è stato registrato da telecamere anche se ci sarebbe utile per capire come è andata la dinamica qui ancora Cardoso che si prendeva l'interno della tagliatoria per cercare un attacco qui la vettura di Messias che rischia tantissimo ma per fortuna mantiene il controllo della vettura qui ancora l'attacco per la prima posizione con Fuentes che nel giro letteralmente di un giro è riuscito ad andare all'attacco di Bassani per la prima posizione stacca addirittura davanti prima di andare a chiudere la curva molto aggressivo e soprattutto anche un segnale per far capire agli altri che lui è il pilota più veloce in questo momento Sertulli qui che fa un po' da tappo fa un po' da trenino con le altre vetture che per la lentezza di Sertulli sono costrette ad accodarsi qua sbaglia leggermente il pilota della numero 8 che rischia anche di essere infilato da tutti ma riesce comunque a mantenersi saldo nella sua posizione vediamo se magari ah no qua c'è il fumo ah ma non vorrei che eh guarda ma lui allora non è che ha cosparso di olio la pista e Boz passando successivamente ha perso il controllo questa potrebbe essere un'opzione assolutamente valida anche perché si può utilizzare quella tagliatoria magari se era anche in battaglia con qualche pilota potrebbe essere arrivato lungo e utilizzare la tagliatoria più larga potrebbe essere un'opzione Andrea si poi a questo punto non ho capito se la ruota persa fosse stata persa proprio vedete che la macchina l'ha parcheggiata però in realtà sono passati tanto tempo dopo quindi mi sembra strano mi sembra molto strano perché tutti quanti sono passati indenni per più giri e poi a un certo punto qualcuno ha perso il controllo sull'olio se ti ricordi avevamo visto quella ruota che rotolava da sola non vorrei che fosse questo uno dei motivi però le immagini non ce le hanno mostrate non vorrei anche che ci fosse ancora il pilota dentro la macchina che sta ricevendo le cure da parte dell'ambulanza che avevamo visto che era andata sul luogo del misfatto non saprei le immagini non ci aiutano di comunicazioni non ne abbiamo possiamo soltanto aspettare e cercare di capire il commissario ha appena tolto la bandiera rossa che si metteva sul birillo e ha preso in mano la bandiera verde quindi credo proprio che siamo pronti per vedere ancora una volta la terza ripartenza di oggi possiamo dire perché praticamente anzi sarebbe la quarta teoricamente Andrea per quella che abbiamo visto anche nella giornata di oggi anzi devono fare bene i calcoli perché abbiamo visto due ripartenze nella nella gara 1 e in gara 2 questa è la terza quindi abbiamo 5 siamo a 5 ripartenze dopo bandiere rosse adesso i piloti si andranno a schierare ci sarà ritengo partenza lanciata non credo proprio che faranno partire i piloti dalla piazzola di la piazzola del retinino d'agguardo intanto la 29 di Toku Junior mi sembrava che avesse un leggero danno all'anteriore sinistra però niente di assolutamente troppo grave piloti che stanno rientrando soprattutto commissari che hanno spostato la vettura di la vettura che c'era presente in curva in curva alla radio quindi possiamo rivedere la partenza e soprattutto possiamo rivederla in sicurezza poi tu ti dimentichi anche della bandiera rossa che in gara 1 era stata sventolata a un certo punto ma poi non ha avuto seguito c'è stato un commissario che sventolava una bandiera rossa ma la gara non è mai stata neutralizzata anche perché effettivamente non c'era nulla che facesse pensare alla necessità di dover sospendere una corsa che in quel momento era appena partita è stato sicuramente un difetto di comunicazione ma nell'economia della gara fortunatamente non è stato preso alcun provvedimento nessuna decisione di sospensione abbastanza particolare come cosa poi per fortuna non abbiamo visto ancora bandiere rosse subito dopo quella che era stata inquadrata però comunque ci ha fatto anche per un attimo uno spavento perché non riuscivamo a capire anche perché era sarebbe stata la seconda nel giro di pochi minuti credo che la safety car abbia già spento le luci quindi possiamo anche già rivedere la partenza tra pochissimo con tanti piloti che di sicuro potranno dimostrare di cosa sono capaci e soprattutto potranno mettere in luce tutta la loro bravura perché abbiamo visto tante belle battaglie su un circuito come quello di Guapora in cui non è facile sorpassare e soprattutto se il tuo rivale è un buon difensore con la gara qui a Guapora che dopo Bandiera Rossa riparte in questo momento con tutti i piloti che prendono il via vediamo se viene in quattro davanti eccolo qua infatti Fuentes che deve difendersi da Cardoso Cardoso che è molto molto vicino potrebbe già tentare un attacco all'esterno non è così però si deve accodare e aspettare Bassani invece sembra avere i suoi rivali molto più vicini la 58 di Mariante è molto attaccata anzi è praticamente testa a testa si prende all'esterno incrocio di tagliatoria in uscita per cercare maggiore trazione ma Bassani continua a difendersi bene il pilota della 0-2 sta facendo una difesa veramente eccezionale quest'oggi arriviamo alla tunnel con attenzione guardate qua ci prova con un incrocio di tagliatoria la vettura di Mariante prova a prendere totalmente l'esterno per cercare più trazione in uscita ma non può niente perché Bassani ha fatto una tagliatoria perfetta e soprattutto ha fatto ha messo le sue spalle belle larghe in centro della pista per far sì che il pilota dietro non possa sorpassare arriviamo alla esce scollinamento per dopo andare leggermente in discesa per affrontare la curva di victoria adesso tutti ancora in fila indiana lo abbiamo visto un attacco vero e proprio che portasse al cambio di posizione ma potremmo vederlo tra poco perché Cardoso è attaccato a Fuentes Fuentes si deve difendere e dietro attenzione perché Mariante ha perso anche diverso tempo sta cercando la scia per recuperare su Bassani però la cosa più importante in questo momento è Cardoso potrebbe già uscire di scia e tentare un attacco si prova a far vedere azione di disturbo sulla numero 25 ma niente da fare attenzione con Cardoso sempre più vicino sempre più attaccato quando mancano ormai pochi minuti alla fine della gara perché siamo stati sì sotto bandiera rossa però comunque c'è anche da dire che mancavano più o meno pochi giri alla fine non possiamo saperlo in questo momento per via delle grafiche non presenti però comunque siamo sicuri che la bandiera a scacchi non è così distante il problema è che per Fuentes saranno istanti saranno minuti infiniti perché si deve difendere da un Cardoso che è sempre più vicino è sempre più ingombrante nei suoi specchietti vanno ad affrontare la Radiador con Cardoso sempre più vicino ma soprattutto guardate anche dietro la vettura di Mariante che sembra poter attaccare Bassani Bassani che però sta facendo una difesa veramente eroica per la sua situazione Cardoso è assolutamente vicino prende tutta la scia non tenta neanche di fare waving la vettura di Fuentes perché sa che potrebbe anche essere penalizzato per una cosa del genere invece Bassani cerca di fare un po' di waving cerca di non offrire troppo la sua scia in pasto al numero 58 ancora azione di disturbo di Cardoso invece l'azione vera e propria della 58 di Mariante che si presenta all'esterno ancora di Bassani stessa manovra fotocopia che ha fatto pochi giri fa tenterà di prendersi l'interno questa volta ed è così sovrasterzo che rischia di far perdere il controllo della vettura e perdere anche velocità adesso Bassani ha il favore di traiettoria e soprattutto ha più trazione quindi esce davanti alla 58 Mariante sta provando comunque a rispondere si prende l'esterno qui forse potrebbe riuscirci ma dovremmo utilizzare infatti fa molta più strada però sembra avere più velocità il favore di traiettoria però sarà di Bassani perché dopo ci sarà una curva verso l'interno qua siamo ancora all'esterno però aveva più velocità in uscita infatti eccolo qua Toku Junior potrebbe approfittarne è molto vicino adesso ha anche un favorito aiettoria si infila no non riesce ad infilarsi solo azione di disturbo da parte sua adesso esce che viene chiusa da parte dei vari piloti comunque questa battaglia per la terza posizione è molto bella perché sono tanti piloti a contendersela mentre invece stavo guardando che Cardozo è stato il mattatore di gara 1 che ha vinto indisturbato ed è sempre appiccicato appiccicato alla macchina di Fuentes è sempre appiccicato ma non riesce a trovare lo spazio ancora manovra fotocopia adesso Mariante sembra davanti questa volta potrebbe essere effettivamente così forse ha perso un po' il controllo della sua vettura un po' di sottosterzo ha fatto finire leggermente lungo il pilota numero 58 risponde ancora una volta Bassani ormai sembra che i due continuino a fare le stesse manovre sempre nello stesso punto e nello stesso momento adesso Fuentes lì davanti continua a scappare però le inquadrature sono ancora su Bassani che questa volta mette forse anche la parola fine sulle battaglie perché riesce a mettersi davanti ma soprattutto riesce a far perdere anche un po' di tempo sulla 58 si mette su una posizione di vantaggio in questo momento Bassani perché comunque può ministrare può controllare invece Cardoso lì davanti continua a rimanere attaccato non riesce a trovare uno spazio si trova in un circuito in cui tecnicamente è sia facile sia difficile sorpassare il Seer Twohli intanto deve stare attento perché sta perdendo la sua posizione per quella che dovrebbe essere la ottava posizione addirittura si ritrovano in un 3 wide i tre piloti attenzione a non creare contatti attenzione a non creare errori Bassani ancora lì che riesce a mantenersi in terza posizione affiancato ancora una volta dalla 58 stessa manovra stessa manovra anche dietro la battaglia prosegue perché ci sono tanti piloti che se la stanno giocando si stanno dando delle sportellate dei colpi fra anteriore e posteriore infatti adesso vediamo anche le macchine che cominciano a mostrare i segni di tutte le battaglie compiute affrontate in gara 1 e anche in gara 2 che ormai è finita ci sarà tanto lavoro per i carrozzieri carrozzieri di sicuro di Guaporè che saranno contenti per tutto quello che è successo in gara e soprattutto per il lavoro che avranno da fare magari un po' meno contenti per il fatto che dovranno farlo durante questo weekend però comunque siamo negli ultimi le ultime battute di gara ultimi giri che si stanno svolgendo proprio in questo momento con Bassani adesso che sta veramente facendo una difesa incredibile possiamo nominarlo ministro della difesa perché ha difeso dalla ripartenza dopo la bandiera rossa qualcosa di non so quante volte l'attacco di Mariante ma intanto davanti dobbiamo stare attenti perché c'è la bandiera a scacchi e quindi possiamo fare le congratulazioni a Fuentes vincitore di gara 2 fantastico lui che è riuscito a difendersi sempre da Cardoso non ha mai non ha mai avuto nessun dubbio non è mai riuscito a mettere non è mai riuscito a come si può dire Cardoso non è mai riuscito ad attaccare Fuentes non ce l'ha mai fatta comunque vincitore della categoria B Cardoso quindi può stare assolutamente contento Fuentes eccolo qua vincitore e soprattutto il pilota che sta facendo uno dei migliori weekend perché P2 in gara 1 e P1 in gara 2 lo stesso risultato che ha fatto Cardoso però c'è da dire che Fuentes ha fatto delle partenze veramente eccezionali commissari che vanno a festeggiare anche insieme ai piloti per tutto quello che è successo ormai anche gara 2 è andata in archivio quindi aspettiamo solo di vedere cosa succederà nella giornata di domani succederà che ci saranno altre gare altre emozioni sempre qui dal circuito di Guaporè sempre con queste macchine veramente belle da vedere correre perché sono tutte quante di prestazioni abbastanza simili e quindi il gruppo continua a viaggiare compatto e ci sono tante battaglie in pista tante battaglie in pista che si vedranno proprio nella giornata di domani eccolo qua Fuentes che vediamo se magari andrà anche a festeggiare con i suoi tifosi non so se hai notato che il logo della Volkswagen sulla sua goal è al contrario davanti no sai che non ci ho guardato vediamo se magari ti fanno un primissimo piano sulla vettura di Fuentes nella zona dell'anteriore perché è qualcosa che era già capitato negli altri weekend mi era capitato di vedere durante la Marca's Cup di vedere proprio il logo al contrario non so se magari è un portafortuna o ha un qualche tipo di significato quello della Volkswagen al contrario o semplicemente o è un errore di dei vari meccanici o non lo so magari se avete un'idea dicecelo dicecelo tranquillamente il motivo per cui i piloti delle varie categorie brasiliane mettono al contrario il logo davanti della Volkswagen ma perché non è solo lui che lo fa eh no ho beccato anche ho beccato anche altri piloti che l'hanno fatto nella Cup ma di questo ne parleremo un'altra volta perché siamo in chiusura ci vediamo per gara 3 quindi da Edoardo Cammelli e Andrea Grazio è tutto noi come ho detto ci vediamo per gara 3 e gara 4 un saluto è il nostro hobby è a paixão